Si chiama Insieme per lo Sviluppo, è pensato dai giovani per i giovani, ma non solo. Il progetto è promosso dal Comitato Giovani Soci della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo. Si rivolge a tutte le aziende socie del territorio con lo scopo di creare una rete di cooperazione tra imprese e professionisti. Una rete che servirà a favorire e ottimizzare la collaborazione fra i vari soggetti attraverso una maggiore visibilità, sia online che offline, volta a creare maggiori possibilità di lavoro e di sviluppo. Vogliamo valorizzare i giovani soci della Banca di Anghiari e Stia che hanno presentato un interessante progetto insieme per lo sviluppo e che vuole valorizzare i giovani soci della Banca per creare un circolo virtuoso in grado di offrire ai soci della Banca prodotti e servizi in maniera agevolata. Questo progetto si attuerà grazie all'incontro di varie realtà presenti nel territorio soci della Banca attraverso un portale dedicato nei quali ogni azienda potrà pubblicizzare gli sconti e le iniziative che vogliono riservare ai clienti soci, usufruendo a propria volta delle scontistiche e delle professionalità che le altre aziende aderenti metteranno a disposizione delle altre aziende soci.